ragazzi chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina se non lo volete fare anche se è gratis se non costa nulla va bene uguale perché c'è stata una cosa che mi ha scosso proprio durante questi minuti ovvero sia le dichiarazioni di Acerbi che ora vi andrò a leggere il Genova ragazzi non ha rubato nulla uno a uno giusto Sommer fa una papera mancanza di condizione atletica non siamo entrati in campo con gli occhi della tigre occhi rossi chiamali come tu vuoi capito siamo Lautaro dipendenti davanti sembra che senza Lautaro giri giri peggio anche eh tu non sembra che renda meno visto gli automatismi che avevano trovato davanti tutto quello che ti pare ma è hai trovato comunque una squadra che stava stretta tra i reparti e non tirava spazi hai provato a girare la palla un po' più veloce ma ti ha messo in difficoltà e non vorrei non vorrei come eh ne stavo parlando anche prima che potrebbe essere un campanello d'allarme per tutti questi over trenta che eh ad oggi sono stati strizzati fino all'ultima goccia di sudore voi sapete benissimo seguendo questo canale io l'ho l'ho sempre detto non possono durare per sempre i trenta quattro anni trentacinque anni eh purtroppo non abbiamo sostituti all'altezza dalla panchina cioè eh ma non solo in attacco secondo me ci sono a due tre ruoli scoperti anche oltre l'attacco per come la vedo io quelli in panchina non riescono a far fare turnover ai titolari tre anni due tre capisci che ti voglio dire quindi eh soffriamo sui calci piazzati scusa ho notato che spesso soffriamo sui calci piazzati e stasera abbiamo sofferto anche su quelli ehm sulle seconde palle arrivavano sempre loro prima cioè capito lo so che sei giocato male ragazzi ma prendiamoci guardiamo il lato positivo prendiamoci un punto però però come giustamente mi hanno scritto anche in chat dopo il primo video eh bisogna rionoscere non abbiamo giocato tutta una grandissima squadra però lì in quel campo eh bisogna rionoscere che hanno durato fatica tutti comunque vado a leggere le parole di Acerbi perché alla fine questo video è improntato proprio sulle parole di Acerbi Acerbi testuale parole sento dire in giro che siamo i più forti ma guardate che quelli che sono andati via erano fortissimi io te lo ho sempre detto che secondo me questa rosa non è assolutissimamente più forte rispetto a quella dell'anno scorso ma è un po' più strutturata a livello numerico per le idee dell'allenatore guardate i nomi dice Acerbi quelli che sono arrivati sono forti ma erano forti anche quelli che sono andati via in Toscana si dice poggia poggio e buca fa pari ci dirò che dobbiamo stravincere poi vedo la Juve dice Acerbi bravo e fai bene che ha speso 200 milioni per tre giocatori Blauvic Chiesa e Bremer noi siamo quasi tutti parametri zero quindi vediamo di essere un po' equilibrati infatti io sono totalmente d'accordo con quello che dice Acerbi perché questa è una squadra che ha cinque o sei 34 anni e che sono tutti i parametri zero contro i parametri zero e all'Inter negli undici titolari è una squadra costruita prettamente ogni parametri zero allora uno dice cosa vuoi pretendere da questa squadra per quello mi riallaccio alle sue parole a quello che ho detto tantissime volte su questo canale io questi ragazzi li vedo sudare la maglia li vedo impegnarsi eh questa squadra mi rappresenta in pieno come valori come spirito di sacrificio con come tutto perché comunque ha giocato un bellissimo calcio fino a poco tempo fa ora è in calofisio si vede è in calofisio ma non le puoi vincere tutte le partite è impossibile con una rosa così non puoi vincere tutte quindi a scelta alla fine con questa ricarazione dice quello io ho sempre detto su questo canale se poi vogliamo spaccare il capello in quattro e vogliamo andare dall'allenatore perché ora qualcuno magari c'è Roma Juve che ne so è lì che si sta sognando una Juve che vince con la Roma quindi forza mu domani forza mu ovviamente e allora comincia a farsi qualche firme negativo modulo mentale passa subito in negativo se vinca con la Roma sono troppo vicini quindi ora c'è qualche critica sull'allenatore voi sapete benissimo che Zaghi non è mai stato il mio allenatore preferito però quest'anno ho riconosciuto che fino ad oggi ha fatto un ottimo lavoro indipendentemente dall'uscita della Coppa Italia Zaghi eleva il centro campista e metti centro una pista leva leva il terzino metti il terzino io te l'ho sempre detto non ha grandissime idee oltre il tre cinque due ma c'è da dire che in Zaghi rispetto ai suoi colleghi che Giorno il tre cinque due Giorno ha un tre cinque due riempimento di spazi o tre cinque due diverso quello che fa lui però se vuoi vi aspettare quattro tre tre oppure il quattro due tre uno cioè con i Zaghi non succederà mai ragazzi io adesso ve lo sto dicendo nel primo anno che è arrivato come il primo anno che arrivò i Zaghi io ti dissi ci sono i video guarda che ha uno staff che da febbraio ha uno staff non tanto eccelso è un allenatore giovane ha pochissima esperienza disse appena arrivò poi dopo tutti a criticare lo staff di Zaghi perché le squadre da febbraio in poi sistematicamente tutti gli anni calano quindi ora vedo molti tifosi all'Inter che stanno facendo le puncie di Zaghi e ci sta ci sta eh perché l'ho fatto anch'io io io capisco ci sta l'utile fare il buon samaritano ragazzi più c'è da fare il buon samaritano ma se vi aspettate da in Zaghi cambi tattici ragazzi vi sbagliate di grosso indipendentemente da come può essere un posto alla rosa anche se gli prendono altri due attaccanti lui gioca un due leva l'attaccante le mette un altro vedi a entrare un Sanchez che ormai cammina una unatovic che da fermo comunque perché gioca da fermo ha fatto qualcosa di buono stasera eh ma il gol lo fa anch'io ma lo so intanto però cerchiamo di guardare il lato positivo intanto Arnatovic ha fatto l'oro quindi per quello che ho detto io è un punto il secondo me non è che proprio da bistrattare capito nella situazione in cui siamo nelle condizioni in cui siamo non è un punto da buttare via io però continuo a dire la stessa identica rosa per come la vedo la situazione il mercato di gennaio è fondamentale perché lo scudetto passa dal mercato di gennaio perché io ti voglio dire visto che mi avete chiesto sempre di essere onesto di dire tutto quello che penso giusto sei diverso da tutti gli altri perché te dici tutto quello che pensi senza problemi ragazzi occhio gli over trenta non reggano questi ritmi fino a fine anno io ve lo dico difficilmente a Cerby l'anno scorso ha fatto sembrava un cyborg se l'hai visto stasera Cerby sì è vero tutta la squadra ha durato fatica ma Cerby malino stasera forse è la seconda partita che vedo giocare male da quando è all'Inter eh ci mancherebbe però Darmian si vede che è spompato capisci cioè per quello io mi riallaccio alle parole di Cerby dunque vediamo se a gennaio si riesce a fare qualcosa speriamo che a parte Buchanan che sembra che sia quasi fatta riescano a prendere anche un attaccante perché ragazzi davanti siamo troppo corti io te lo dico ciao Inter Grazie.